Il liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria apre le porte alle famiglie e agli allievi delle scuole secondarie di primo grado della città, in occasione dell'Open Day. Sarà possibile visitare le aule, i locali e avere informazioni sui percorsi di studio e gli indirizzi attivati per l'anno scolastico 2017-2018. Oggi pomeriggio 28 gennaio si terrà dalle 3 alle 8 l'Open Day della nostra scuola che è un'occasione che aspettiamo da tutto l'anno per mostrare a coloro che non vivono la nostra stessa realtà scolastica quali sono le iniziative che tutti i giorni ci rendono protagonisti e che cosa questa scuola possa offrirci sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista delle relazioni interpersonali. Comprenderà corsi per mostrare come si svolgono le materie classiche, quali latino e greco, appunto sulla loro didattica e l'esposizione dell'organigramma, cioè dei nuovi indirizzi approfonditi con materie specifiche come il corso Cambridge con le speciali materie in inglese come i matematica e il latino e ancora le materie con l'approfondimento biochimico, musicale e così via. Speriamo che tutti possano apprezzare il lavoro che stiamo svolgendo poiché è un'iniziativa totalmente organizzata dai ragazzi che tengono profondamente a questa scuola in quanto costituiamo tutti una grande famiglia. Saranno aperti anche i lavoratori che si potrà assistere all'attività di musica, letteratura ma anche a quelle teatrali e scientifiche. Consiglio anche ad altre persone di iscriversi in questa scuola poiché guida la tua linea di pensiero e ti aiuta anche a formare un senso critico. Vi aspettiamo!